se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e lascia un like situato a napoli castel capoano è un antico edificio costruito nel 1154 dal re guglielmo soprannominato il malo e da ruggero il normanno originariamente ideato come una residenza reale fu nel 1220 che federico secondo di svevia decise di ampliarlo affidando l'incarico a giovanni pisano nel corso del sedicesimo secolo l'edificio fu convertito in sede dell'amministrazione giudiziaria ospitando il sacro reggio consiglio la regia camera della sommaria e la gran corte della vicaria i sotterranei invece furono adattati a funzione carceraria tra il 1856 e il 1861 castel capoano subì un ulteriore restauro che consentì di preservarne intatte le caratteristiche fino ai giorni nostri durante questo periodo all'interno del castello si verificò un episodio leggendario legato al fantasma di una donna di nome giuditta guastamacchia la vicenda racconta che giuditta fosse una giovane donna di straordinaria bellezza ma vittima di una terribile tragedia durante il periodo del granducato di toscana ella era innamorata di un giovane soldato di nome riccardo ma il loro amore era ostacolato dai genitori di giuditta che desideravano che la figlia sposasse un uomo ricco e influente resi folli dalla gelosia e dalla rabbia i genitori di giuditta ordinarono l'uccisione di riccardo giuditta disperata e incapace di accettare la morte dell'amato si dedicò all'occulto pregando per avere vendetta contro i suoi aguzzini le sue preghiere vennero ascoltate ma a un costo altissimo la sua anima fu condannata a vagare per l'eternità come un fantasma imprigionata nel castel capuano da allora il fantasma di giuditta è stato avvistato periodicamente all'interno del castello molti visitatori riportano strani avvenimenti e fenomeni soprannaturali come rumori di passi inaudibili porte che si aprono e chiudono da sole o addirittura l'apparizione di un'ombra femminile che scompare nel nulla la storia di giuditta guastamacchia il fantasma di castel capuano ha suscitato grande fascino e interesse numerosi studi e ricerche sono stati condotti al fine di spiegare questi fenomeni paranormali ma nessuna spiegazione razionale è stata trovata fino ad oggi castel capuano continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo non solo per la sua storia e la sua architettura ma anche per l'aura di mistero che avvolge il fantasma di giuditta coloro che decidono di visitare il castello si trovano immersi in un'atmosfera suggestiva e affascinante dove passato e presente si fondono in un'unica dimensione e chi lo sa potrebbero anche avere l'opportunità di fare un incontro con il fantasma di giuditta guastamacchia testimone silente di una terribile tragedia d'amore oggi sede della scuola superiore della magistratura la costruzione del castel capuano fu avviata nel 1160 dall'architetto buono su ordine del re di sicilia guglielmo primo detto il malo figlio di ruggero il normanno l'edificio aveva una funzione difensiva con robuste fortificazioni ambienti sobri e un'innata vocazione come presidio militare scavi effettuati nel diciannovesimo secolo hanno dimostrato che il castello sorgeva nell'area in cui si trovava un'antica fortezza romana vicino al gimnasium trasformato in un cimitero nei secoli successivi come riportato nella cronaca di partenope un trattato anonimo di storia di napoli compilato all'inizio del quattordicesimo secolo e come provano le numerose tombe rinvenute nel 1231 per volere di federico secondo ebbe luogo il primo intervento di trasformazione del castello rendendolo più ospitale per accogliere temporaneamente il sovrano di passaggio da napoli pur mantenendo le sue indispensabili fortificazioni ne nominò castellano il suo uomo di fiducia di poldo di dragoni e utilizzò il castello per custodire importanti prigionieri politici con l'avvento degli angioini iniziò la costruzione di una nuova fortezza castel nuovo o maschio angioino che divenne la dimora dei sovrani di napoli castel capuano continuò ad ospitare membri della famiglia reale funzionari e altri illustri ospiti come francesco petrarca che vi soggiornò nel 1370 in qualità di legato di clemente sesto durante il regno di giovanna prima il castello fu sottoposto a nuovi restauri a causa del saccheggio subito dalle truppe di luigi primo d'ungheria che successivamente dovette abbandonare la città a causa dell'arrivo della peste nera nonostante l'imponenza del maschio angioino castel capuano fu cornice di importanti eventi come il sontuoso matrimonio di carlo di durazzo ladislao il magnanimo riprese brevemente il castello come propria residenza mentre giovanna seconda vi trovò rifugio durante lo scontro con alfonso quinto d'aragona che aveva stabilito la sua corte a castel nuovo il castello resistette all'assedio delle truppe aragonesi dimostrando la sua impenetrabilità in seguito la regina si recò ad aversa dove nominò luigi terzo d'angio suo erede fu in castel capuano che il 23 agosto 1433 fu assassinato sergiani caracciolo favorito della regina su ordine di quest'ultima durante il periodo aragonese il castel capuano fu inglobato nella nuova cinta muraria della città perdendo la sua funzione di baluardo difensivo alfonso d'aragona lo utilizzò come dimora dinastica mentre castel nuovo era in fase di ricostruzione il castello visse il suo periodo più splendido tra il 1470 e il 1490 quando alfonso secondo di napoli investì in genti somme per creare un sistema di dimore interconnesse nell'area orientale della città inclusi i castelli di poggio reale e della duchesca il progetto fu affidato probabilmente all'architetto giuliano da maiano durante questo periodo il castello ospitò eventi mondani e rappresentazioni teatrali con l'annessione del regno di napoli alla corona di spagna nel 1503 tutte le dimore dei sovrani aragonesi iniziarono a decadere nel 1537 il vicere don pedro de toledo confiscò il castel capuano e lo trasformò nel tribunale del regno riunendo tutte le corti di giustizia sparse in diverse sedi della città l'edificio subì importanti modifiche architettoniche eliminando le strutture militari e ripensando gli spazi interni i sotterranei furono adibiti a prigione e dotati di camere di tortura nel corso della sua lunga storia il castel capuano ha subito numerosi interventi di trasformazione e restauro che hanno modificato profondamente la sua struttura durante il periodo aragonese furono rifatte le mura esterne del castello nel corso dei secoli sono stati realizzati molti interventi decorativi in particolare legati alla sua funzione di tribunale nel diciannovesimo secolo sotto la guida dell'architetto giovanni riegler sono stati effettuati importanti lavori di restauro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti